Ci troviamo in compagnia del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestre, Vittorio Orlandi, ben ritrovato. Presidente, sono passati i fatidici 90 giorni o poco meno della sua elezione. Ci racconti come sono passati e come ha trovato la situazione federale. Sono stati 90 giorni estremamente intensi. Prima di tutto perché la federazione da molto tempo non ha più un Presidente, per cui tutti i collaboratori non gli sembrava vero di poter rivolgere tutti i loro quesiti. Secondariamente non ha avuto il segretario per 90 giorni. Terza cosa che nel periodo cadeva assolutamente al ridosso dell'organizzazione di Piazza di Siena, alla quale noi vogliamo, abbiamo voluto dare una veste molto diversa, visto che le edizioni precedenti sono state molto negative e quindi avevamo il dovere nei confronti di tutti gli spettatori della Federazione Internazionale d'Italia con una veste innovativa, cosa che abbiamo fatto, che abbiamo ottenuto il plauso e il riconoscimento ancora della valenza della nostra Piazza di Siena.